Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo a fare un esercizio in assembly utilizzando la piattaforma RARS della versione 1.6 se non mi sbaglio, sì, corretto. L'esercizio di oggi sarà un esercizio comunque non molto complicato, però comunque iniziamo ad utilizzare le dichiarazioni condizionali, quindi vendiamo in dettaglio come si fanno e soprattutto come si scrive in assembly. Oggi andremo a tradurre questo linguaggio di programmazione ad alto livello in un linguaggio a basso livello come assembly. Come prima cosa da fare è quella di richiamare la direttiva global, insomma dove possiamo definire il punto di inizio del nostro main dove verrà eseguito il programma, quindi la chiamiamo start, poi chiameremo anche la direttiva text per indicare che andremo a scrivere il codice qui, creiamo il nostro punto start dove inizieremo il programma e in primo comando dovremo fare x-2. Come si fa a fare x-2? Innanzitutto creiamo delle variabili, queste variabili saranno x e y, facendo un load immediate, quindi t0 di magari 10 come valore, e mentre per quanto riguarda y lo chiamiamo, cioè li inseriamo, lo inizializziamo con 8. Dopo aver fatto questo passaggio, cioè abbiamo inizializzato x e y, andremo a fare x-2. Per fare x-2 possiamo fare un add immediate di t0 perché era x, quindi facciamo t0 con t0-2. Quindi noi stiamo dicendo che andiamo a posizionare nella variabile x il valore di x-2. Dopo aver sottratto meno 2 alla variabile x, dobbiamo sommargli anche y per poi inserirlo nella variabile x. Quindi, beh, semplicemente mettiamo un add di t0 perché andrà a finire nella variabile x con t0 sommandoli t1 che è y. Subito dopo verrà la condizione, quindi dovremmo fare la condizione if. E per fare ciò basta semplicemente andare anche su help dove ci verrà mostrata una sequenza di comandi se in caso abbiate difficoltà a ricordarvi le varie istruzioni. Come potete vedere qua ci sono i vari branch, quindi qua branch if equal, branch if greater than, eccetera eccetera. Però comunque essendo qua x minore di 0, a noi come prima cosa da pensare ci verrebbe di utilizzare il branch if less than, perché così x minore di 0, però per convenzione andremo ad utilizzare il branch if greater than or equal. Quindi facciamo principalmente che se x è maggiore uguale di 0, quindi il contrario di questo, noi faremo principalmente questa qua. Se invece fosse minore di 0, facciamo questa qua. Quindi qua posso scrivere branch greater than and equal di che cosa? Quindi dovremmo scrivere t0 con 0 e poi scriviamo la condizione. Perché scrivo condizione? Perché questo, se questa condizione risulta vera, andremo a finire nella sezione condizione, che andiamo a scrivere qua, condizione due punti. Quindi noi abbiamo detto che se questa condizione risulta vera, quindi abbiamo che x è più grande o uguale a 0. Se è così, andremo a stampare quindi principalmente qua addi di t1 con t1, 1, perché andremo principalmente ad aggiungergli 1 come valore a t1 che t1 è y. Invece se la condizione non risulta vera, andremo ad utilizzare x uguale x più 1. Quindi facciamo un addi qua di t0 con t0 più 1. E' importante anche utilizzare la sezione end, dove principalmente andremo a richiamare una system call, che sono delle chiamate principalmente per il sistema operativo. Andremo a richiamare delle cose principali come magari il print, o magari per stampare insomma nella console, oppure principalmente possiamo anche uscire dal programma. E quindi la cosa che vogliamo fare, quindi per fare un'uscita faremo un addi nel registro 17 del valore 0 con il valore 10, che è la chiamata per uscire. E poi facciamo un e-call. Ok, dopo aver fatto questo, proviamo a controllare in caso se funzioni, funziona, ok? E questo possiamo vedere insomma quello che fa il computer per ogni passaggio. Quindi come primo valore abbiamo detto che caricavamo x e y. Quindi se io vado avanti, qua dico che carico x con 10. E lo vedo qua. T0 ha un valore di 10. Poi se io continuo ad andare avanti, vedo che y è caricato al valore 8. Poi facciamo, abbiamo detto che facciamo x-2. Quindi T0 diventa 10-2 che diventa 8, corretto. Successivamente facciamo la somma con y, qua. Facciamo la somma con y, infatti come potete vedere, se io continuo ad andare avanti, x diventa 16 perché si è sommato con y che era T1. E entriamo nella dichiarazione condizionale. Quindi controlliamo principalmente se x è maggiore o uguale di 0. Dato che la condizione risulta vera, andremo a finire in questo punto qua, numero 25, dove facciamo principalmente che y è uguale a y più 1, ok? E vediamo che y viene incrementato di 1 e non faremo altro che concludere l'esercizio perché qua andiamo a richiamare il metodo della system call col valore 10, chiediamo di uscire ed infine finisce il programma così. Ok, questo era un esercizio comunque abbastanza semplice, non era complicato, però comunque è un ottimo modo per iniziare a programmare in assembly e soprattutto anche per quelli che volevano vedere come si utilizzasse questo programma, cioè RARS 1.6. Per questo video è tutto ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale su YouTube, di mettere like, commentare e ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Ciao!